Quando andai a parlare con un figo, questo gli disse, ma sarà che quando si parla di omosessualità, disabilità grave, fine vita, cannabis, lo Stato si impalla così, capito? E fa finta di niente. Walter De Benedetto ha scelto oggi di essere presente al Tribunale di Arezzo, era in calendario la prima udienza preliminare per il suo caso e allora sentiamo com'è andata. Alla fine sono state accolte le richieste del Collegio Difensivo, ovvero procedere per un rito abbreviato per il quale è stata fissata un'udienza il 27 aprile prossimo, udienza durante la quale sarà ascoltato anche Walter De Benedetto. Sì, il 27 aprile è stato rinviato il processo. Speriamo che in quella data si discuta anche e quindi se discuteremo, salvo imprevisti o salvo un carico di ruolo troppo pesante per il giudice, in quella data avremo anche il dispositivo. La vicenda risale all'ottobre 2019 quando, in seguito ad un blitz dei carabinieri, vennero trovate alcune piante di cannabis in un annesso adiacente all'abitazione di Walter. Per lui scattò l'accusa di coltivazione di stupefacenti, anche se era ricorso all'autoproduzione, per supplire alle lacune del sistema sanitario, non riuscendo ad ottenere la quantità di cannabis a scopo terapeutico che gli era necessaria. Abbiamo raccolto sull'appello di Walter, lanciato da Walter dal Presidente della Repubblica, oltre 20.000 firme, che proveremo nelle prossime settimane a depositare anche al Quirinale materialmente e ad avere un cenno di risposta anche dalla massima autorità del nostro Stato, perché qui si parla del diritto alla salute, sancito dall'articolo 32 della nostra Costituzione. Io mi sento apposto con la coscienza, avevo chiesto solamente un grammo di aumento, vedo di andare avanti, perché confido e credo nella legge, ho sbagliato, ben venga, non lo so, oggi mi aspettavo tante cose e è stato rinviato il 27 aprile, ben venga, io spero prima di arrivarci e poi penso sempre positivo.